ciao ragazzi vedi come fa un italiano quando va a fare la sfida come chiede alle persone adesso lo vediamo tutti insieme come in italia c'è una lista quindi ci avviciniamo ci avviciniamo al negozietto che non so se voi ci avete zia non lo so zia pina zia da me era sia mena da me c'era sia mena andavate vi portavate la lista della spesa perché voi non eravate troppo svegli che era mattina presto quindi vi davano la lista della spesa buongiorno e quindi entravamo poi al negozietto con questa cosa qua buongiorno ciao buongiorno come c'erano tutte le cose e poi c'era la mente del desiderio che voleva prendere qualcosa tipo le cingommine non lo so il gelatino però dovevi essere dovevi fare solo la lista quello che c'era scritto nella lista abbiamo preso tonno zucchero perché questo qui fa meglio l'olio quindi qua invece cosa c'è 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 una famosa fabbrica dove lavorano tutti e ci sono le noci di combi bellissime bravo quindi come vedete qui c'è una forma di parlare la lingua quindi qui puda dicono che buia questo è l'origenale bananakew bananakew è giù o sul? giù prima ti fri la banana la banana ma il meglio per fare una banana non è molto raro non è molto raro? sì, è un pochino quindi lasciate non deve diventare troppo bruciacchiata queste qui devono essere cotte giuste, non bruciate ora aggiungo il zucchero e lascio caramellizzare abbiamo una banana cube quindi in Italia non lo so se avete mai assaggiato perché ieri c'era il video della pizza guayana quindi non penso che avete mai mangiato la pizza guayana figuriamoci se avete mai mangiato le banane caramellate che sono buonissime da provare poi in Italia abbiamo quelle buone, le cicchizza sono buonissime quindi dovete provarla questa cosa che debbi è dimple, H dimple è una bravissima cuoca quindi prima io andavo a fare la spesa per la mia nonnina nonnina pepina e poi ci vado a fare la spesa per dimple poi le scola perché ovviamente poi se le mettete anche nella carta ah no queste c'hanno lo zucchero quindi meglio no nooo xd 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 next video quindi anche stiamo preparando la pasta pomodoro e tonno quindi ragazzi cioè praticamente è proprio come quando andate in campeggio qui c'è il craccio che vuole mettere la frutta in tigre quindi si mette un po' un po' un po' un po' La caccia di buttery Cosa ti chiamarti? La caccia? La caccia? La caccia? Ho provato a smettere spaghetti con il pezzi Quindi C'è una nuova La caccia Occe 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 Il filippino Cebuia Bumbay Ecco Bumbay Poi il tomalo Tutto malo Per i panni Quasi 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 Si Caccia E Poi Poi Que la caccia Si Et Qui Si Poi Nasce Poi So, she putt also green onion. That was my mum. Mum, 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 mum. It looks like the advertiser. It's like the advertiser. Very nice. Here, then put... Here. And now... What do you feel? Hungry. Hungry. Okay. So, this channel is for people that like to eat food. We are not in Dutch. Yes, we have a diet. It's a diet for feeling healthy. How you say, Debbie? We are not on diet but we eat because we are happy. Happy! So, we try this spaghetti with a chopstick because I put a little sweet. Wait. Here we go. Mmm, yum, yum, yum! Very nice guys, Queen. for this and add and rest of recite subscribe see you next video but also comment because please you are very lazy commenter nine someone comment mmm so we have our dinner we are dating what be the line so put with that refresh okay and we have also the banana cube oh look at that the italiana is hungry for that also wait there look the italiana how he eat with his chopsticks it's not like that so the taste you like the taste yes so can you explain what is that this is spaghetti with tuna tomato green onions and garlic but there is no black pepper because the man say that but I add with the chili flakes chili flakes is okay so buon apetito it's a little spicy in someone thank you thanks the Lord ciao buon apetito And now I want to see you guys look at the inside that so we still have a bit to see you on the inside that if you look at the top it looks like you can find the ultimation of the tail so you in italia, how do you use this? perché qua in Filippina, una curiosità, qua in Filippina non usano i bastoncini, qua, anticamente, usavano le mani, ma questa qui è una roba giapponese, cinese, coreana, quindi ragazzi continuate a seguirci con queste avventure e andate nel canale di Emanuele Agostino perché lui fa dei videogiochi divertenti e non come me che ogni volta mi dicono che c'è il copyright però ho capito ragazzi sono stanco le reazioni le reazioni sono perfette, quindi farò qualcosa, farò qualche chiamata, così a manager di youtube e non le farò sbloccare tranquilli, quindi passate nel canale di Emanuele Agostino che fa dei bellissimi giochi divertenti con suo figlioletto Kevin e stanno facendo stumble guys e ogni tanto fanno minecraft e ogni tanto provano qualche nuovo videogioco, anche FIFA, gli unpacking di FIFA 23, quindi ci vediamo al prossimo video, ciao Ciao